Questo programma è offerto da... Il rombo delle vetture britanniche torneranno ad essere protagoniste in questa puntata di All Race TV. Proprio così, questa settimana ci dedicheremo alla monomarca Lotus Cup Italia che in quel di Imola ha disputato il penultimo round stagionale. Come sempre saranno tantissimi gli ospiti presenti qui all'interno degli studi televisivi di Sport Italia. Tra poco ve li vado a presentare, ma prima, obiettivi su di lei, la bellissima Valentina Bonariva. Buonasera a tutti, benvenuti. Oggi è Lotus, quindi o è verde o è nero perché era già un player special, ma tu sei rossa Ferrari. Certo. Sono prontissima per parlare di Lotus Cup Italia, ma anche di mobilità sostenibile. Ebbene sì, perché nell'ultimo blocco saremo molto green. Esatto. Hai parlato di green, quindi adesso vado a presentare gli ospiti e quando si parla di mobilità sostenibile non può certo mancare lui nei nostri studi. Titolare di Nivirta, driver Lotus Cup, Paolo Ferraresi. Buonasera a tutti. Siamo di nuovo qua. Parleremo un po' di corse e un po' di cose sostenibili. Bene. Al suo fianco un colore, un suo compagno di colori del team Cipriani, nonché campione in carica 2017 Lotus Cup Italia, Franco Respoli. Ciao Franco. Ciao a tutti. Era un po' che eri latitante, eh? Vi sono mancato, eh. Certo. E poi ancora oggi come ospite qui in questa super puntata di All Race TV, chi gara 2 in quel di Imola l'ha dominata? Matteo De Florian. Ciao a tutti. Finalmente è arrivata sta vittoria, eh? Finalmente. Dopo tante sfortune è arrivata. Dopo vedremo come sono andate le cose. Bene Paolo, allora prima di entrare nel vivo del round romagnolo, ci vuoi fare un bilancio di questa stagione Lotus Cup? Che vedete è impegnato sia come driver ma anche come partner della serie. Sì, diciamo che quest'anno rispetto ai risultati che abbiamo conseguito lo scorso anno non è andato troppo bene, però voglio dire non tutti gli anni sono uguali e come vi potrà dire meglio il mio co-amico, co-driver, co-pilota, co-tutto, Franco Nespoli. È stato un anno un pochettino tribulato, però voglio dire ci si diverte sempre, le gare sono sempre molto combattute. Io le guardo un po' da dietro, un po' distante, però mi diverto. Bene Paolo, io direi adesso di dare la parola al tuo compagno di Colori che dopo una stagione un po' in sordina in quel Dimola ha ritirato fuori tutta la grinta, non che non ce l'avevi all'inizio stagione, però un po' le cose non sono andate nei migliori dei modi fino a Dimola. Sì, è stata una stagione un po' particolare, Paolo fa riferimento ai miei risultati, chiaramente lui punta tanto su questo aspetto, devo dire che effettivamente siamo stati un po' bersagliati dalla sfortuna, però effettivamente a Dimola ci siamo riscattati, è stato un bel weekend. Finalmente mi sono anche divertito perché è importante divertirsi anche sulla macchina e questo ci ha permesso anche di ritornare a casa con il sorriso. Benissimo, scattavi dalla prima fila in seconda posizione e poi diciamo che ci avete fatto vivere dei duelli pazzeschi. Sì, infatti la prima fila ho visto che siamo riusciti a prenderla diciamo abbastanza facilmente, anche se non abbiamo fatto la pole ma ho proprio deciso che era sufficiente partire davanti perché comunque con una buona partenza sarei riuscito comunque a fare una bella gara. Oltremodo partendo lì davanti la fortuna è stata anche quella di riuscire a scavalcare subito la pole position, cioè quella di Francesco Guerra mi sembra che avesse fatto lui la pole position. Qua vediamo proprio le immagini della partenza dove come un leone ti sei portato davanti a tutti, intanto De Florian dietro che viene allungato un attimo, allargato da Francesco Guerra. Come hai vissuto queste prime fasi di gara, Frankie? Le ho vissute bene perché era un po' che non ero lì davanti e questo fa sempre piacere. Devo dire che il livello della Lotus Cup è sempre stato alto. Adesso ci sono cambiati un po' i pretendenti al podio, però di fatto effettivamente lo si vede anche dalle immagini, siamo tutti vicini. E questo permette un bello spettacolo, duelli corretti lo si vede adesso con Liana per esempio che abbiamo fatto, che mi ha passato all'esterno. Poi c'è subito stata una partenza. Quale l'hai ripassato subito sulla rettilinea? Esattamente, abbiamo fatto un bel duello assieme, mi sono ripreso la prima posizione. Lì mi ha un po' sorpreso, dopo ho preso un buon ritmo, ho visto che riuscivo anche a distanziarmi. Poi c'è stato un piccolo episodio che probabilmente magari discuteremo dopo. Ecco, infatti, tra poco purtroppo sei dovuto rientrare in pit lane. Ecco, stiamo vedendo adesso le immagini dietro di me. Franco Naspoli in pit lane. Allora, devo dire che purtroppo c'è stata una svista, nel senso che da quello che mi hanno detto mi ero posizionato in griglia leggermente avanti. Pensavo di aver fatto una falsa partenza, invece era proprio la posizione della macchina che era leggermente avanti e questo naturalmente i commissari non se lo sono fatti sfuggire. E ho dovuto rispettare comunque una decisione del commissario di fare un drive-thru, per cui un passaggio in pit lane. E di fatto questo mi ha, diciamo, privato di quello che era la prima posizione. L'orgoglio è quello di dire che da dodicesimo sono riuscito a rimontare fino a quarto, per cui un divertimento straordinario. Direi che sei stato fantastico. Con dei sorpassi incredibili e andando anche oltre quello che era, diciamo, il consentito, per cui è stato molto divertente. Intanto, come abbiamo intravisto, il nostro Matteo De Floria, invece, quando si giocava la vittoria, ha fatto un'escursione sulla parte, diciamo, verde della pista. Ho commesso io un errore nella staccata della rivazza e sono andato in ghiaia e da lì ho tranciato dei cavi dell'ABS che non mi hanno permesso di finire la gara. Infatti mi sono ritirato. Una grande gara comunque, insomma, vissuta da parte di tutti. Abbiamo visto anche poi Guerra, che è andato sulla ghiaia anche lui, Liana che l'ha ripassato. Insomma, una grande gara. Penso vi siate divertiti, Franchi. Ma devo dire che essendo un livello molto alto bisogna dare tutto. Per cui dare tutto a volte si va un po' oltre, ecco, in questo senso. Questo fa sì che qualcuno magari faccia qualche escursione, ma alla fine tutti finiscono la gara. A parte Matteo che è stato un po' sfortunato proprio in relazione alla conseguenza della fuoriuscita. Però in linea di principio, sì, per essere lì davanti bisogna andare tanto. E questo naturalmente ci sta anche il piccolo errorino. E Paolo Ferraresi intanto tagliava il traguardo in decima posizione. Beh, devo dire, siamo partiti in 15, arrivo decimo, me la sono cavata. Nel senso che questi qua sono leoni. Io devo ancora imparare molto da loro, in particolare da Franco. Lui è sempre molto prodigo con me di consigli. Io cerco di seguirlo, però ragazzi, più di lì non ci arrivo. Cercherò di fare il mio meglio, almeno all'ultima data Misano, perché già mi ha dato delle dritte importanti. Il prossimo round. Quindi alla fine la vittoria è stata per i veloci il Nicolò Liana, seconda piazza per Francesco Guerra, terza piazza per Manassero. Esatto, questo è l'ordine d'arrivo di questa gara 1 che come abbiamo visto dai nostri studi televisivi di Sport Italia è stata veramente fantastica. Grandi gare, ma Paolo, abbiamo visto nel paddock anche un gran divertimento tra te, il tuo compagno Frenchi, ma anche con tutto il clan Lotus Cup. Diciamo, quando si vede ballare il buon Federico Cipriani, che ha passato l'ottantina, vuol dire che il divertimento è garantito. Cioè se lo guardare lui vuol dire divertirsi. Poi obiettivamente la gente è simpatica, nessuno fa il cattivo, perché se facciamo il cattivo gli schiaffetti sulle manine. Voglio dire, come diceva Frenchi, il livello della competizione è salzato moltissimo, però detto questo siamo tutti amici, nel senso che ci comportiamo in maniera, oserei dire, più che urbana. E questo è molto importante. Matteo, anche per te è così? Sì, sì, assolutamente c'è un bellissimo ambiente nel paddock, malgrado poi ogni gara viene combattuta fino all'ultimo sangue. Bene, ecco noi andiamo un attimo in pubblicità, abbandoniamo gara 1 per catapultarci in quella che è stata un vero spettacolo in gara 2, Imola, Lotus Cup. A tra poco, pubblicità. Mecomer, azienda leader nel settore dello sbaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it Signori, benvenuti a bordo, il viaggio può iniziare. Mettetevi comodo. Nini Virta. Velocità, sicurezza, affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa. Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. Nini Virta. Un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi. Dal 2007, magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta. La prima azienda in Italia a utilizzare camion comportata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica. Nini Virta. Da oltre 30 anni. Tagliamo traguardi vincenti insieme a voi. Rieccoci ancora in studio per parlarvi nuovamente del campionato Lotus Cup Italia. E dopo gara 1 siamo prontissimi per tuffarci in gara 2 e direi che è una corsa entusiasmante. Guardiamo. Esatto. A vincere la gara ci ha pensato Matteo De Florian, come abbiamo già svelato a inizio trasmissione, però sicuramente è una vittoria che non è stata facile. Andiamo a commentarla dal primo giro. Siamo partiti in questo momento. Sì, allora, dal primo giro io partivo quinto perché abbiamo fatto una qualifica non delle migliori. E davanti Manassero che sono riuscito a sfilare abbastanza in fretta. Poi qua siamo giù dalla rivazza. Intanto in testa c'era Francesco Guerra. Francesco, sì. Poi c'è Liana, Stellino e poi c'ero dietro io. Poi Mescoli. C'era Frank dietro di me. E niente, qua tutto gioco di scia. Chiaramente sul retellino lungo di Imola bisogna sfruttare molto la scia della macchina davanti. Intanto Franky qua è passato Stellino. Sì, ero in ribonta perché ho fatto una partenza schifosa perché comunque ho messo l'imitatore la macchina e non è partita bene. E se però sei recuperato. Mi sono giocato praticamente la prima fila sudata con grande fatica e lì mi sono un po' innervosito. Ho voluto fare le cose... Poi intanto stai baciando il paraurti Matteo di... Anzi, Pintroppo. Matteo devo dire che ha sempre una gran grinta, è bello da vedere. Infatti vediamo contro stersi, sorpassi. Diciamo che Matteo vuoi vincere. Sì, sì, a tutti i costi. A volte è un po' troppo. A volte è un po' troppo. È un po' troppo che è andato in testa a coda. Sì, esatto. Dopo ho fatto anche una rimonta un po' particolare perché ho schivato dei problemi in pista. In effetti avete appena visto che c'è stato un passaggio al limite con un altro concorrente che si è girato davanti a me. Ero in rimonta perché dopo il testa a coda alla variante alta sono ripiombato comunque nelle retrovie. Ed è stata anche qui una bella gara proprio perché c'è stato proprio questo vincente recupero. Guardate qui che lotte intanto con Liana, appunto De Florian, Guerra. Questi tre driver veramente insieme a Frankie che poi è dovuto... Ah, guardate qui intanto il traverso. Era una gara di drifting, Matteo? O Lotus Cap Italia? So, qua ero esterno perché ho Liana dentro e ho preso un po' di sporco. Mamma mia! Ho preso dello sporco sulla gomma e dopo la macchina ho una tenuta diversa. Quindi è andata così con la curva. Ecco, qua ti ha ripassato Guerra che presto ripasserai. Sì, sì, sì. Ma stavamo dicendo che comunque sia te che Liana, Guerra. Intanto qua a Nascoli cosa è successo? Ti sei girato? No, questo qui non sono io. Ti confondi con l'altra macchina che qua è Manassero. Però ti eri girato anche tu alla stessa gara. Io mi sono girato però al secondo giro. Al secondo giro. All'inizio del secondo giro. Qua sei girato Guerra intanto. Sì, esatto. Insomma è stata una gara sicuramente che non ha lasciato via di scape. Intanto qua all'epilogo. Esatto. All'ultimo giro è Vale. All'ultimo giro Liana rompe una sospensione a due curve dalla bandiera e Matteo De Flore va a vincere la sua prima gara in Lotus Cup. Eccola qua. Dici cosa hai pensato appena hai visto queste immagini. In verità ero molto preoccupato già da due giri alla fine perché avevo il deflettore dietro rotto della macchina che mi sfregava sulla ruota posteriore sinistra e faceva, oltre che fare attrito, faceva due ore di bruciato. Quindi avevo paura che mi scoppiasse la gomma prima di finire la gara. Ovviamente non ero felice di quello che è successo a Nicolò perché comunque mi dispiace però le sfortune capitano un po' a tutti e questo è il mondo delle corse. Certo. Ecco, Paolo, quanto spettacolo in questa gara 2. Lotus Cup, come abbiamo sentito prima dalle tue parole sì è divertimento ma ragazzi quando abbassate la visiera siete delle iene. No, questi ragazzi bisogna veramente ogni tanto dargli una strizzatina alle orecchie perché quando ci si mettono a casco in testa non è che danno spettacolo fanno fuochi artificiali, cioè voglio dire è la notte di Capodanno. Di più. Di più forse. Ma allora dacci un 5. E allora gli diamo un 5. No, no, sono forti, sono bravi e vi dico ragazzi vista da dietro è impressionante perché quando tu vai a 230 all'ora vedi uno davanti che comincia a sbattere a driftare come il nostro De Floria e con qualcuno dici ma se lo fa lui magari ci provo anch'io però ragazzi vi garantisco io arriverò sempre alla fine bello tranquillo cercando di portare a casa le gomme. Ora la situazione quindi delle gare manca una gara al termine abbiamo il comando della classifica Francesco Guerra in seconda piazza Nicolo Aliana segue il terzo posto Michael Cordini Michael Cordini che tra l'altro è stato sfortunatissimo perché in gara 1 stava recuperando ha avuto un problema gara 2 ha fatto il giro di lancio e si è fermato quindi un grande protagonista fermo ai box. Adesso è tempo di saluti Matteo ti volevo ringraziare innanzitutto per la tua prima ospitata qua a Sport Italia a farti complimenti nuovamente per gara 2 e volevo sapere se avevi già un po' affilato le armi per il 2019 Sì il 2019 a gennaio parteciperò con PB Racing alle 24 ore di Dubai a Craventic e stiamo appunto componendo tutti i team per prendere parte a questa bellissima competizione. Franco a Misano hai ceduto lo scettro di campione a un altro pilota ma l'anno prossimo lo riportiamo a casa il titolo? Vabbè come ho sempre detto noi partiamo per portarlo a casa purtroppo quest'anno non siamo proprio stati della partita perché altrimenti i protagonisti lo saremmo stati di sicuro. Il 2019 io direi che prima aspettiamo Babbo Natale poi vediamo sotto l'ambito qui quando arriverà con i regali vediamo se dentro uno di questi regali c'è scritto 2019 ecco Valentina tu cosa dici? Ha scritto già la letterina in pratica in diretta e le REN e tutti quanti ce ne abbiamo Paolo tu invece adesso rimani ancora un pochettino con noi perché nell'ultimo blocco parleremo di mobilità sostenibile grazie all'azienda Nini Vierta Grazie Ricchi passiamo dalle macchine ai camion esatto siamo sempre qua salutiamo Franco ciao grazie mille ciao a tutti e alla prossima e il nostro Matteo grazie mille ciao voi non cambiate il canale perché tra pochissimo si parlerà ancora tanto di motori o forse questa volta di motori elettrici ok a tra poco il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebrezza di una vettura da corsa il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg vuoi stupire? regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista per informazioni www.iltuosogninpista.it come anticipato ad inizio puntata in questo ultimo blocco si parlerà di mobilità sostenibile ebbene sì diamo il benvenuto a Kevin Mostabilini che è un driver dell'azienda Ninivirta Transport buonasera a tutti buonasera come stai Kevin bene bene sempre in giro si sta facendo l'abitudine esatto il mondo sta sempre più andando verso il green e oggi grazie all'azienda Ninivirta Transport grande conoscitrice di questo settore vogliamo capire un po' quali news ci sono a livello green in Italia ma non solo Paolo come discuteremo ampiamente dopo abbiamo partecipato a questo incontro organizzato dalla regione Lombardia a Milano qualche settimana fa dove abbiamo potuto sia contattare diciamo i nuovi personaggi del green cioè le persone che stanno sviluppando le nuove batterie i nuovi sistemi di ricarica e noi comunque abbiamo visto che è un è un settore che sta veramente prendendo piede finalmente per dare la possibilità soprattutto alla nostra città a una città come Milano ma a tutte le città dove verrebbero implementati sistemi di trasporto a 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 elettrica di respirare meglio di 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 aver meno rumore e di poter ricaricare i mezzi anche per strada perché questo è un po' il nuovo busillis e la sembra che anche i politici comincino a capirne qualche cosa ecco so che eravate presenti al palazzo della regione Lombardia all'evento e mob appunto per le grandi novità eh sì diciamo che lì in quella sede abbiamo ripresentato uno dei nostri camion abbiamo visto che il comune di Milano ha acquistato qualche autobus elettrico di conseguenza noi abbiamo fatto vedere la strada adesso anche il comune ci viene dietro noi portiamo le merci loro portano le persone no la filosofia ormai è definita eh il trasporto sia pubblico che privato va sempre di più verso questo tipo di soluzione eh cosa vuol dire vuol dire che troveremo sempre di più sulle nostre strade eh vetture camion autobus attrazione elettrica silenziosi che non puzzano eh che non inquinano e che comunque fanno bene il loro lavoro eh diciamo che anche la politica sta facendo la sua parte perché hanno capito che è un settore al quale bisogna dare respiro eh indipendentemente da fondi non fondi cioè bisogna crederci perché ci fa bene anche a noi prima di tutto chi ne gode è chi abita nella città certo perché non avrà più le lenzuole esposte quando le fa asciugare esposte allo smog ma riuscirà a tirare veramente un sospiro di sollievo ecco l'azienda Nini Virta Transport da quanti anni crede nel progetto Green so che siete stati i primi in Italia siamo stati i primi e dal 2012 che abbiamo cominciato a guardarci in giro nel 2013 abbiamo acquistato il primo camion elettrico dall'Inghilterra e ancora oggi parlando del trasporto merci siamo ancora gli unici in Italia che possono garantire con una flotta il trasporto delle merci con trazione 100% elettrica perfetto bene abbiamo già parlato un po' prima dei vantaggi che può portare ad essere Green però entriamo un po' nello specifico veramente i grandi vantaggi beh dopo Kevin illustrerà un po' meglio vissuti dal ponte di comando quali sono i vantaggi anche per l'operatore cioè per l'autista i vantaggi essenziali sono che possiamo entrare in tutti i centri cittadini 024 cioè in qualsiasi ora del giorno e della notte appunto per la prerogativa di non inquinare e non fare rumore come dicevo la politica è più sensibile ci concede i permessi per poter fare questo lavoro appunto durante tutte le ore le 24 ore del giorno noi ci stiamo impegnando per far vedere che è possibile perché tanta gente ancora ci guarda con un certo sospetto lo vediamo inquadrato in questo momento di recente le nostre telecamere Kevin sono andate a Tribiano nella vostra sede principale Nini Virta Transport dove abbiamo potuto notare l'arrivo di questo straordinario nuovo mezzo ce lo vuoi raccontare Kevin? si si è praticamente l'ultimo arrivato diciamo nella famiglia è il mezzo più grosso che abbiamo tra la nostra flotta quindi è un camion con una massa complessiva pieno carico importante finalmente e con una portata dagli 90 quintali più o meno quindi siamo arrivati al gap quindi che è un camion che fa 300 km 350 e porta in giro finalmente dai merci anche un peso molto molto importante Paolo quanti sono i mezzi elettrici che oggi dispone Nini Virta? troppi e troppo pochi cioè oggi ne abbiamo 7 in esercizio a Milano poi attraverso il nostro amico Lacchi di Roma ce ne sono altri 2 ne abbiamo altri 2 in Finlandia e arriviamo ad 11 ma la cosa più bella è che a breve a giorni stiamo aspettando finalmente il camion che noi definiamo siciliano è una trasformazione in elettrico di un camion Iveco effettuato da una società di Messina con il supporto dell'università locale lo aspettiamo obiettivamente da molto tempo finalmente l'abbiamo visto finalmente in strada finalmente ha fatto tutti i collaudi che doveva fare e nel giro di 7-10 giorni dovrebbe essere a Milano per iniziare a lavorare per iniziare a portare le merci in giro ecco Kevin tu che hai già provato questo straordinario mezzo quali sono i punti di forza allora diciamo che il punto di forza è sempre quello della guidabilità del mezzo quindi silenzioso nessun rumore nessuna diciamo noia di guida e poi super accessorato quindi telecamere laterale frontale per lo scarico aria condizionata aria condizionata la radio il navigatore tutto è un mezzo completo con tutto in più chiaramente è green quindi ha la marcia in più Paolo a questo punto non vogliamo sapere tutte le news Nini Virta legate alla mobilità sostenibile allora una importante è appunto che ce ne sono altri tre in arrivo abbiamo un nuovo fornitore in Germania che doveva darci un camion alla fine di novembre ma concordamente abbiamo pensato di portarlo all'inizio dell'anno prossimo perché stanno arrivando delle nuove tipologie di batterie più performanti più leggere che caricano più energia di conseguenza faremo più strada mentre abbiamo il nostro fornitore olandese la Emos che entro la fine di novembre ci porterà il primo camion da 7,5 tonnellate per poter andare in giro anche la domenica quindi 7 su 7 24 su 24 abbiamo la flotta completa da piccolo al grande grande camion che ha le occhiaie perché ormai è sempre su il camion però ha sempre questa pelle liscia e velutata perché non c'è smog quindi viaggi bene o no? non inquini viaggi tranquillo e non inquini soprattutto ecco io ci tenevo a parlare di green in questa puntata Valentina so che per il futuro dei tuoi figli anche tu sei contenta di aver parlato di ecologico perché oggi adesso a parte gli scherzi dobbiamo pensare anche al nostro futuro ma al futuro anche dei nostri figli dico bene Paolo assolutamente diciamo che quello che noi facciamo oggi lo lasciamo per quelli che arriveranno domani noi ci mettiamo il nostro impegno abbiamo fatto vedere la strada siamo piccoli magari non troppo piccoli però il cuore è lì esatto e le aziende dovrebbero credere sempre di più in attività green perché fanno bene a loro e fanno bene anche a noi ninivirta.it grazie mille Paolino per questo super intervento grazie a tutti voi chiamateci siamo disponibili 724 ecco Kevin hai capito 724 non ci sono più ferie non ci sono vivrai tanto di caffè però sì grazie mille Kevin per il tuo contributo Valentina che bella puntata sì Enrico devo dire veramente importante noi andiamo un attimino in pausa adesso e ci vediamo settimana prossima grazie per averci seguito questo programma è stato offerto da grazie a tutti